Prima con l'auto è andato a sbattere contro uno spartitraffico, poi è finito nel cancello di un'abitazione ribaltandosi. Nella notte, a Qualiano, in provincia di Napoli, è morto così Nunzio Gelsomino, 42 anni. I carabinieri sono intervenuti in via circunvallazione esterna strada provinciale 1, all'altezza della rotonda dove si trova il comando della Guardia di Finanza per l'incidente stradale. Poco prima e per causa in corso di accertamento, un 42enne di Napoli e una 37enne di Sant'Antimo, mentre erano a bordo di un Apollo, perdevano il controllo dell'auto, impattando sullo spartitraffico. Da un primo accertamento è emerso che la macchina dopo essere impattata sullo spartitraffico si sia ribaltata per poi attraversare la rotonda terminando la corsa contro un cancello di un'abitazione al Civico 4. L'uomo, Nunzio Gelsomino è deceduto sul colpo mentre la donna è stata trasferita in codice giallo nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.